Flavio Briatore, noto imprenditore italiano, ha recentemente affrontato un importante intervento chirurgico al cuore presso l'ospedale San Raffaele di Milano. L'operazione è stata eseguita per rimuovere un tumore benigno. E fortunatamente tutto è proceduto secondo i piani. Dopo il successo dell'intervento, Briatore è stato dimesso ieri e ora è in fase di recupero. Tuttavia, dovrà continuare a seguire una serie di controlli di routine per garantire il suo pieno recupero e il mantenimento della salute cardiovascolare. Durante questo periodo delicato, Briatore può contare sul sostegno incondizionato del figlio Nathan Falco e della ex moglie Elisabetta Gregoraci, che lo hanno accompagnato e supportato durante tutto il percorso medico. La solidarietà e l'affetto della famiglia sono fondamentali per affrontare momenti come questo. E Briatore è senza dubbio grato di avere accanto le persone care in questo momento cruciale della sua vita. Ora, mentre Briatore si concentra sul suo percorso di guarigione, tutto il mondo dello spettacolo e dell'imprenditoria si unisce nel fargli gli auguri per una pronta guarigione. In bocca al lupo, Flavio. Per un rapido e completo recupero.